Ma lo sapete che i numeri random all'interno di un qualsiasi computer in realtà non sono per nulla casuali? Ciao, io sono Giulio e oggi parliamo proprio di questo, del perché i numeri random non sono per nulla random. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se vi va e a entrare all'interno del mio server Discord con tutta la community. I numeri casuali per noi sono molto importanti, per esempio possono essere utilizzati all'interno dei videogiochi, per magari generare una mappa, tirare un dado o mescolare le carte. Possono essere usati anche all'interno di una lotteria per definire quale dei tantissimi biglietti è quello vincente. Sicuramente però c'è un aspetto in cui i numeri casuali sono veramente veramente super importanti. La sicurezza. La crittografia è spesso basata sui numeri casuali. Se infatti riuscissimo ad ottenere una chiave totalmente in maniera random, beh avremmo un livello di sicurezza sicuramente altissimo. Ma se questa casualità non è una vera e propria casualità e possiamo prevedere i numeri e i valori che possono venire fuori, beh è abbastanza chiaro che la sicurezza viene molto meno. Qualsiasi computer al giorno d'oggi per generare una sequenza di valori casuali utilizza un algoritmo. Che cos'è un algoritmo? Un algoritmo è semplicemente una serie di istruzioni, passi, azioni che dato un input lui lo elabora e ci ristruisce un valore di output. Questa sequenza di azioni è però determinata e i passi non possono cambiare, tantomeno possono essere casuali. Quindi se a questo algoritmo gli diamo lo stesso identico input, beh è chiaro che ci ristruirà sempre lo stesso identico output. E quindi non abbiamo possibilità di generare numeri random. I computer funzionano tramite formule matematiche e come sappiamo, beh, la matematica non accetta casualità. Sono disponibili sul mercato però tantissimi algoritmi che tentano e cercano di generare numeri quanto più casuali possibili. Ma in realtà di numeri casuali in realtà non ne vengono generati perché non è fisicamente possibile. Per questo vengono generati i cosiddetti valori pseudo-random, cioè valori non veramente casuali. Più questi algoritmi sono complessi e sofisticati e più ovviamente ci avviciniamo sempre di più alla vera e propria casualità. Tutti questi algoritmi, come veri e propri algoritmi, come vi dicevo prima, devono ottenere un valore di input per poi poterlo elaborare e restituirci un valore di output. Beh, nel caso di algoritmi che appunto generano questi valori pseudo-randomici, questo input si chiama seed. In base al valore di questo seed, l'algoritmo riesce a generare una sequenza di valori casuali. Se però questo seed rimane completamente identico, beh, la sequenza rimarrà comunque identica. Un esempio lampante di seed può essere molto familiare per chi gioca a Minecraft. Quando viene generato un nuovo mondo possiamo appunto ottenere il suo seed, cioè questo seme che permette di creare altri mondi completamente identici appunto a questo che abbiamo creato. Questo seed appunto è questa serie di valori che messa all'interno di un input ci restituisce la stessa identica sequenza di valori. In questo modo appunto se lo inseriamo in un nuovo mondo di Minecraft ci restituirà lo stesso identico mondo che abbiamo ottenuto prima. Qui appunto ripeto che se l'input di questi algoritmi, il seed, è uguale, beh, appunto otterremo la stessa identica sequenza di valori. Quindi questa dipendenza dal valore del seed rende questi algoritmi per nulla casuali. Inoltre se conosciamo il seed iniziale e come funziona l'algoritmo, beh, è abbastanza ovvio che riusciremo a prevedere i successivi valori generati. Questi sono detti PRNG, Pseudo Random Number Generator. Sono sicuramente sistemi molto economici sia a livello di performance che di tempo, ma appunto non riescono a generare per nulla valori casuali. Questo seed in qualche modo lo dobbiamo ottenere per darlo in pasto a questi algoritmi per generare valori pseudorandomici. E come facciamo? Lo generiamo casualmente? Beh, ovviamente no, non è possibile perché avremo necessità di un ulteriore seed che serve per utilizzare un algoritmo per generare un altro seed che serve per generare i nostri valori pseudorandomici. Il che non ha senso. Quindi spesso per evitare che si utilizzi uno stesso seed e che quindi vengono generati i stessi valori pseudorandomici, si utilizza come seed il numero di 1000 secondi attuali, la data attuale del momento in cui l'algoritmo viene eseguito. Il tempo esatto in cui viene eseguito l'algoritmo è sempre diverso uno dall'altro e quindi riusciremo sempre a generare nuovi valori casuali diversi tra loro. Se però in qualche modo riuscissimo a generare una sequenza di valori nello stesso momento, nei stessi millisecondi di un altro, beh, in questo modo otterremo per forza la stessa sequenza di valori pseudocasuali. È abbastanza difficile che possa accadere inconsapevolmente, ma volendo possiamo farlo e prevedere i numeri che verranno generati. Abbiamo capito che un software non è per nulla in grado di generare veramente valori casuali, perché gli algoritmi che generano questi valori sono sempre gli stessi, hanno sempre i passi definiti e determinati e quindi con lo stesso input, beh, per forza riusciremo ad ottenere lo stesso identico output. Possiamo quindi prevedere i valori che usciranno, oppure i valori che usciranno da questi algoritmi ritorneranno pian piano ad essere sempre gli stessi. Quello che possiamo fare per generare valori molto molto più veramente casuali è quello di utilizzare l'hardware. Questi tipi di generatori sono detti TRNG, True Random Number Generator. I generatori hardware non necessitano di uno stato iniziale, di un seed da cui partire per generare la nostra sequenza e quindi questo rende questi sistemi praticamente quasi imprevedibili. Questi sistemi ottengono la casualità da dei processi fisici, per esempio attraverso il moto browniano, cioè un fenomeno che si verifica quando all'interno di un fluido troviamo delle particelle, come per esempio particelle di polvere, che si muovono in maniera praticamente casuale scontrandosi tra di loro. Possiamo ottenere anche una certa casualità anche con il rumore. Per esempio possiamo generare valori casuali attraverso il rumore termico, chiamato anche rumore bianco, per esempio di un resistore. Facendo passare della corrente all'interno di questo resistore, un amplificatore amplifica appunto questo rumore termico che attraverso un comparatore riusciamo ad ottenere e misurare e appunto a generare dei veri e propri valori casuali. Questi sistemi hardware, come ho detto, hanno il grande vantaggio di riuscire a generare veri e propri valori casuali, valori totalmente indipendenti da altri valori misurati nello stesso contesto. Hanno però anche purtroppo degli svantaggi. Questi sistemi riescono a generare un basso numero di valori casuali, come si dice hanno un basso throughput, cosa assolutamente non comparabile con i sistemi attraverso gli algoritmi che riescono a generare numeri di valori pseudo casuali molto molto più grandi. Inoltre questi sistemi hardware hanno un grande costo a livello di tempo e prestazioni. Nell'ambito del proprio computer possiamo anche utilizzare dei fenomeni fisici più diretti, per esempio derivanti da informazioni di sistema, come per esempio il numero di file all'interno di un disco, il numero di task in coda, lo stato della memoria centrale, o da eventi esterni come per esempio il movimento e la posizione del mouse. Tutti questi sistemi hardware, seppur riescano a generare dei valori casuali, non riescono a fare in maniera soddisfacente. In genere, infatti, la distribuzione di questi valori non è uniforme e spesso sono anche prevedibili. Possono essere inoltre anche affetti da condizioni come la temperatura e la pressione. Il problema di fondo è che la fisica classica semplicemente non permette la casualità. Tutto può essere determinato se riusciamo ad avere informazioni iniziali sufficienti. Quindi è praticamente impossibile riuscire a generare valori veramente randomici al 100%, poiché sia gli algoritmi che i sistemi hardware hanno un certo grado di prevedibilità e ripetitività. Quindi non c'è scampo, riusciamo solo a generare numeri pseudo randomici quanto più randomici possibile. Per verificare se una serie di valori è stata generata in maniera totalmente casuale, possiamo verificarlo attraverso il test di frequenza. Questo test consiste nel contare quanto ogni valore, ogni numero, viene generato all'interno della sequenza e confrontarlo rispetto al numero di volte che ci aspetteremmo di trovarlo se la sequenza fosse veramente casuale. Per esempio generiamo una sequenza di 20 numeri, da 1 a 10. Contiamo quante volte ogni numero è presente all'interno della sequenza. Se questa sequenza fosse veramente casuale, ci aspetteremmo di trovare ogni numero circa 2 volte, perché abbiamo 10 numeri possibili e la sequenza è lunga 20. Vediamo infatti che ogni numero viene generato 2 o 3 volte, quindi possiamo affermare che questa sequenza è abbastanza casuale. Questo test però è opportuno farlo con sequenze molto molto più grandi, per avere un risultato più accurato. Però è comunque un ottimo modo per verificare la vera casualità di una sequenza. Spero che questi numeri casuali non vi abbiano annoiato e che siano stati super affascinanti. Poi vi è stato chiaro, nel caso fatemi questo tipo di domanda qua sotto nei commenti. Io vi ricordo ancora se vi va di iscrivervi al canale e di entrare all'interno del mio server Discord. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!